Musica Arriva da Confartigianato la risposta del territorio a chi cerca e offre lavoro. Con Job Talent, il nuovo portale dedicato a imprese e cittadini, incrociare domande e offerte di lavoro sarà più facile. Confartigianato è un'associazione di imprese, si parte dall'esigenza delle imprese, ma dobbiamo anche creare opportunità per il territorio perché siamo sempre più attenti alla persona e quindi siamo attenti a quello che succede nel territorio. Il lavoro è per noi un tema fondamentale per quanto riguarda la società, ma per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda tutto il nostro paese. L'intenzione con questo portale è quella di raggiungere un duplice scopo. Il primo è naturalmente cercare di creare occupazione, facilitare la domanda offerta e richiesta nel mondo del lavoro, ma vogliamo anche cominciare a creare una banca dati di quelle che sono le reali esigenze delle imprese nel nostro territorio. Pensiamo che ci sia stato fino ad oggi uno scollamento tra quelle che sono le esigenze aziendali e le offerte invece formative. Con questo, anche per questo motivo, grazie all'intervento dell'Università e agli istituti professionali, di creare quelli che possono essere dei percorsi formativi anche per i giovani, per chi vuole restare a lavorare in questo territorio, perché è questa la nostra intenzione, il nostro obiettivo, fare in modo che i giovani restino a lavorare nel proprio territorio. Bisogna creare i percorsi formativi giusti, adeguati a quelle che sono poi le richieste del territorio. Il fattore umano per noi è indispensabile per rilanciare questo territorio. Quindi oggi abbiamo presentato uno strumento che non ha la presunzione di risolvere tutti i problemi, ma di facilitare la vita all'imprenditore che cerca risorse umane sul territorio e alle persone che magari vogliono rimanere su questo territorio avere uno strumento che facilita la conoscenza delle esigenze e dei fabbisogni formativi. Per questo abbiamo richiesto un'alleanza con le istituzioni, con la Regione Marche, con i comuni e con le scuole per cercare anche di creare e costruire delle risorse, della formazione delle risorse rispetto anche al fabbisogno formativo che abbiamo. Siamo atterriti dal fatto che negli ultimi dieci anni 247 mila giovani abbiano abbandonato il nostro paese, di cui 6 mila della Regione Marche. Ora, noi sappiamo tutti che dobbiamo competere in un contesto globalizzato, dobbiamo rilanciare la Regione Marche che comunque ha tanti gap che dobbiamo aiutare a risolvere, però dobbiamo far sì che i nostri giovani rimangano qui. E per farli rimanere qui le nostre migliori risorse hanno necessità di imprese e di una semplificazione, una facilitazione per chi vuole accedere al lavoro. Il primo tema è quello delle competenze. Dobbiamo sempre andare nell'offrire competenze di livello utili per il mercato e per lo sviluppo. Da questo punto di vista, proprio quest'anno, abbiamo erogato quattro nuovi corsi, in particolare due nuovi corsi magistrali che nascono da rapporti interdisciplinari di varie facoltà, uno sul Data Science per l'Economia e l'Impresa e l'altro sul Manager della Sostenibilità e dell'Economia Circolare. che ci stanno dando grandi soddisfazioni, quindi i dati sono particolarmente positivi. Il tema delle competenze viene poi ad essere associato al tema dei giovani. Creare delle opportunità di lavoro diventa fondamentale. Tutti gli strumenti che permettono quindi di integrare domanda ed effetti di lavoro sono particolarmente positivi. Non un solo strumento, ma come abbiamo visto più strumenti in una logica quasi di filiera. Già attivo, il sito www.jobtalentconfartigianato.it permette agli aziende di individuare i profili professionali più adatti alle esigenze e di ricevere in tempo reale consulenza su agevolazioni e normative in vigore e ai cittadini permette di trovare offerte lavorative in linea con le loro competenze. Questo strumento che noi andiamo ad implementare è uno strumento di politica attiva. Noi siamo soggetti accreditati per i servizi al lavoro e quindi vogliamo intervenire nel mercato del lavoro con un comportamento attivo per andare a colmare una delle principali criticità che è il mismatching, quindi la difficoltà di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Lo facciamo attraverso questo portale che non è soltanto un portale svolge appunto una funzione di incontro domanda e offerta ma anche una funzione informativa su agevolazione e strumenti di accesso al mercato del lavoro che viene gestito e assistito da operatori esperti in consulenza del lavoro e amministrazione del personale. Il portale è molto semplice nell'utilizzo, è di libera consultazione per le imprese e di accesso gratuito per i lavoratori. Le imprese che sono interessate possono inserire online la loro richiesta che verrà poi trattata da operatori esperti che contatteranno l'azienda in modo da reperire tutte le informazioni necessarie per edigere nel modo più opportuno l'annuncio che verrà pubblicato nel portale. Contestualmente noi facciamo anche una ricerca nella banca dati lato lavoratore per verificare la presenza di eventuali curricula potenzialmente idonei e li segnaliamo all'azienda e l'azienda poi che fa la selezione. Anche i lavoratori si può candidare online o per uno specifico annuncio oppure per l'inserimento in banca dati allegando il proprio curriculum.